Grazie David, caso Materit di Ferrandina, il Ministero dell'Ambiente ha convocato la Regione per il prossimo 11 novembre. Si parlerà della bonifica mai partita nell'azienda di Amianto, chiusa ormai da 30 anni, all'interno della quale restano ancora centinaia di sacchi. Stefano D'Agostini. 30 anni dopo la chiusura della Materit di Ferrandina potrebbe esserci una svolta. L'appuntamento è per l'11 novembre. Il Ministero dell'Ambiente ha convocato la Regione Basilicata per parlare della bonifica dell'area occupata dalla fabbrica di smessa di cemento Amianto. Al tavolo tecnico ci saranno anche Ispra, la massima autorità ambientale a livello nazionale, e INAIL, l'Istituto per gli Infortuni sul Lavoro. Più di un anno fa la Regione ha inviato il progetto di bonifica al Ministero, chiedendo di convocare una conferenza dei servizi, passaggio necessario per avviare il risanamento ambientale. Ma dopo una serie di solleciti, da Roma non è arrivata alcuna risposta fino ad oggi. All'interno del capannone Materit ci sono ancora circa 600 sacchi pieni di Amianto, più altri manufatti dello stesso materiale che vanno smaltiti. Nel 2014 la Regione ha approvato un progetto di bonifica da 3 milioni e 700 mila euro, ma poi è scattato un lungo contenzioso giudiziario tra le ditte partecipanti alla gara che ha bloccato tutta la pratica. Ora il progetto è in fase di aggiudicazione, ma il via libera del Ministero è tutt'altro che scontato. Tre anni fa, infatti, INAIL aveva avanzato una lunga serie di contestazioni che stravolgevano il progetto posto a base della gara. Dunque il prossimo incontro sarà fondamentale per capire il percorso della bonifica. Il rischio è quello di allungare i tempi o, peggio ancora, ripartire da capo.